Attraversamenti ferroviari della città di Pagani invasi da erbacce, rifiuti e calcinacci, scarsa illuminazione, la casa del custode alla stazione è abbandonata a se stesso. Questi i problemi segnalati dall'assessore all'ambiente del comune di Pagani, Gerardo Palladino, al servizio di manutenzione ferroviaria delle ferrovie dello Stato di Salerno. Si invocano interventi urgenti. Nel mese scorsi c'è stato un primo intervento di rimozione dei rifiuti su tutti gli attraversamenti ferroviari di Pagani. Ora a distanza di qualche mese la situazione si sta ripresentando di nuovo sul tratto paganese. Io ho sollecitato nuovamente il servizio di manutenzione di RFI per quanto concerne il servizio di pulizia su tutto il tratto che concerne il territorio di Pagani, oltre ad una richiesta specifica per quanto concerne la manutenzione dei binari. All'installazione delle passerelle in gomma, di solito sono gomme strail tecnicamente, che attutiscono il rumore provocato dalle auto in transito, ma in particolare quello dei treni in corsa. Anche qui alla stazione ci sono luoghi che non vengono in qualche modo utilizzati o sfruttati, come l'ex biglietteria. Il Comune che cosa immagina di aprire anche una discussione con la rete ferroviaria italiana per la gestione, per l'affidamento, per far sì che questi possano essere in qualche modo luoghi non abbandonati e quindi ci sia un'attenzione in più anche al decoro. Ci stava tutto un discorso in atto per la riqualificazione dell'intera zona, per quanto concerne RFI, sistemi urbani, per tutto quello che concerne la riqualificazione di questo contenitore, diciamo così, in riferimento alla stazione ferroviaria. Ho segnalato nella mia nota lo stato di abbandono dell'ex casa del custode, non vi è nemmeno il portone d'ingresso, quindi lascio immaginare a cosa si potrebbe prestare. Ora ho chiesto a Ferrovie dello Stato di attivarsi al fine di mettere in sicurezza quest'area anche con un servizio di illuminazione, di pubblica illuminazione molto più efficiente in modo tale da utilizzare anche tecnologie un po' più all'avanguardia, in modo tale da illuminare, diciamo a giorno, l'area a ridosso delle Ferrovie dello Stato e di competenza di Ferrovie dello Stato. Grazie